dopo aver lavorato anche con le immagini aggiungiamo naturalmente un'altra domanda vediamo quello che ci è rimasto ancora da fare e scegliamo come domanda per esempio una domanda alla scala lineare andiamo con ordine questa è più che altro una domanda che difficilmente riusciamo a trovare nei test quanto ti piace la geografia a questo punto noi dobbiamo mettere i parametri da 1 a 5 la prima etichetta per niente e l'ultima etichetta mettiamo moltissimo in questo caso naturalmente noi non possiamo dare una chiave di risposta perché le sue risposte giuste la rendiamo comunque obbligatoria ce ne andiamo a vedere comunque nell'anteprima come esce questa chiave di risposta questa chiave lineare e la chiave lineare appunto è questa quindi qualsiasi domanda noi clicchiamo è buona andiamo a vedere invece le domande un pochettino più complicate da costruire cioè griglia scelta multipla come la scelta multipla prevede una sola risposta giusta e no un attimo che ho sbagliato ecco qua dovevo prima salvare reso obbligatorio la devo devo aggiungere ovviamente una domanda per quanto riguarda quindi la scelta facciamo la griglia scelta multipla è una domanda particolare perché come la scelta multipla cioè una sola è giusta ma dobbiamo le domande sono distribuite naturalmente in una serie di griglie allora cerchiamo di una domanda per esempio può essere colloca nelle diverse giornate giornate del Decameron i temi analizzati i temi presenti nella prima colonna a questo punto noi mettiamo per esempio anzi nella domanda così lasciamo domanda nella prima riga noi possiamo mettere per esempio terza giornata giornata poi mettiamo quarta giornata e poi mettiamo settima settima giornata nelle colonne invece noi mettiamo appunto come vi ho detto prima i temi che può essere insomma industria amore beffa diamo naturalmente sempre una chiave di risposta che è dunque l'amore nella terza giornata scusate nella quarta giornata l'industria è nella terza giornata e la beffa è nella settima a questo punto mettiamo anche dei punteggi che possono essere tre per esempio e finiamo la domanda finito questo rendiamo obbligatore e ce lo andiamo a vedere e vediamo un attimo in anteprima in anteprima come i ragazzi vedranno questa domanda ecco la vedranno in questo modo torniamo al nostro lavoro e andiamo a fare questa volta la griglia no sempre raggiungiamo un'altra domanda e andiamo a fare la griglia questa volta con le caselle di controllo come avevo detto che anche in questo caso mentre le caselle nella scelta multipla ci deve essere una sola domanda giusta nelle caselle di controllo le risposte possono essere diverse allora per esempio quali paesaggi sono presenti nelle rispettive regioni e possono essere anche più di uno allora noi possiamo mettere per esempio possiamo mettere Veneto una regione possiamo mettere Puglia una regione possiamo mettere per esempio Molise una regione possiamo mettere Toscana un'altra regione e qui che cosa mettiamo mettiamo tre paesaggi per esempio le Alpi pianura e possiamo aggiungere mare ecco a questo punto noi diamo le chiavi di risposta e in questo caso dobbiamo stare molto attenti perché naturalmente noi abbiamo scelto un attimo che non ho pianura pianura era scomparsa possiamo dare naturalmente una serie di chiavi di risposta e possiamo dare un ponteggio lo mettiamo a casaccio potrebbe essere quattro per esempio diamo le risposte giuste naturalmente il Veneto contempla tutte e tre la Puglia il mare e la pianura il Molise non ci sono le Alpi quindi mare anche se può sembrare strano la Toscana naturalmente mare e queste possono essere insomma le indicazioni che diamo velocemente la rendiamo obbligatoria e abbiamo fatto anche questa domanda andiamola a vedere nell'anteprima ce l'andiamo a cercare naturalmente e qui troviamo appunto le caselle di testo a questo punto non ci rimane altro che completare con le due domande a risposta aperta lasciamo per ora la data e l'ora perché insomma sono indicazioni che aggiungiamo successivamente andiamo aggiungiamo un'altra domanda naturalmente e andiamo sulla risposta risposta breve si tratta di una risposta appunto che deve essere estremamente sintetica che possiamo dire per esempio fornisci una definizione del termine per esempio ecologia bene e a questo punto lasciamo solamente ragazzi la risposta naturalmente non possiamo mettere nessuna chiave di lettura perché la risposta è aperta e quindi qualora nel nostro test ci fossero domande di questo tipo questa o quella che vedremo tra pochissimo noi non possiamo rimandare il feedback immediato ai ragazzi di risposta ma dobbiamo aspettare di aver corretto tutti quindi se vi ricordate nell'impostazione noi avevamo dato questa modalità limite eccetera presentazione e mostra barra di avanzamento nella ecco ovviamente avevamo dato pubblica voto subito dopo ogni invio a questo punto il test come l'abbiamo costruito così deve essere successivamente dopo la revisione manuale questo è normale e lasciamo insomma ancora per ora questo aspetto poi vi faccio vedere vi spiego il perché e a questo punto ci rimane l'ultima domanda qui noi dobbiamo lavorare ed è la risposta a paragrafo cioè una risposta che è un pochettino più lunga della semplice risposta a breve e quindi possiamo dire chiedere dunque spiega spiega brevemente che cosa è l'umorismo per piranello ecco diamo una risposta che è un pochettino più lunga naturalmente non possiamo dare chiave di risposta la possiamo rendere obbligatoria e questo è la nostra è il nostro test il test è praticamente finito non ci rimane altro che inviarlo alla nostra casella di posta elettronica possiamo scegliere naturalmente una mail la posso inviare a me stesso e a questo punto posso tranquillamente dunque dunque si si trova al di fuori ovviamente quindi vuoi condividere questo modo anche con gli utenti esterni in questo caso naturalmente io sono costretto vado sul mio account di posta elettronica troverò naturalmente la mail che mi è stata inviata e potrò formulare il test vado a fare velocemente mettendo naturalmente risposte a casaccio cercando ovviamente di dare una risposta veloce ecco non mi è ancora arrivato quindi va bene comunque quest'ultima parte è abbastanza semplice la troverò sulla mia casella di posta elettronica compilerò il test e poi immediatamente io potrò trovare qui nelle risposte quante persone ecco in attesa di risposta da parte di una di una persona invia un promemoria via mail insomma quindi l'ho mandata sono in attesa di risposta teoricamente io potrei anche trasformare le risposte in un foglio di lavoro in un google fogli per avere appunto un'indicazione più completa come al solito siamo anche nei tre puntini ricevi notifiche e mail per nuove risposte seleziona destinazione per la risposta ma questo l'avevamo già impostato scarica le risposte in un file .csv e anche questo può essere utile insomma se noi dobbiamo scorporare dei dati oppure elimina tutte le risposte se ritengo che non mi servono più io penso di aver completato tutto tutto quello che c'era da dire su google moduli nella modalità quiz se naturalmente ci sono delle osservazioni che dovete fare le potete tranquillamente fare nei commenti